Nel laboratorio segreto lo scienziato più famoso del mondo sta costruendo la sua più incredibile creazione ha il più avanzato sistema di difesa mai creato un robot perfetto tuo figlio? si signore pronto? sono Cora chiamami Astro i valori del nucleo sono le stelle mi farebbe comodo un robot così a tutte le unità voglio qualcosa adesso ma che avete ragazzi? preso signore, rientriamo stai bene? wow il pacificatore, subito deciso ha, forte chi guida? quando il mondo è in pericolo lui è pronto per salvarlo Astro Boy ho i mitragliatori anche qui sono Cora sono Cora è l'unico è l'unico è l'unico